appassionati di pallavolo tifosi e tifose della cucina Lube Civitanova, ben trovati in questo magazine di approfondimento per la formazione cuciniera purtroppo reduci da due sconfitte consecutive rispetto alla nostra ultima puntata quella contro Modena 3 a 0 in trasferta e quella su questo campo all'Aerosole Forum gara d'andata quarti di finale Champions League contro la formazione dello Jastrebelsky-Wiegel la formazione polacca anche in questo caso vittoria della formazione ospite per 3 a 0 un momento di difficoltà per la squadra cuciniera anche se più volte abbiamo ribadito praticamente in ogni nostra puntata le difficoltà che deve affrontare la squadra di Chico Blengini a causa delle assenze per infortuni, a causa per due volte quasi in maniera consecutiva alla Covid, una preparazione settimanale che è sempre difficoltosa insomma le attenuanti ci sono ma indubbiamente queste due sconfitte lasciano riflettere ci confronteremo su questo tema ma più in generale su quello che sarà il prosieguo di questa stagione per la cucina Elube Civitanova con Rock Ieroncic centrale della formazione Biancorossa ben trovato ciao a tutti, ciao grazie grazie per essere con noi, giovanissimo classe 2001 se non ricordo male farai 21 anni praticamente a novembre novembre esatto sei al tuo primo anno qua a Civitanova con la cucina Elube Civitanova appunto intanto come ti stai trovando? come giudichi la tua prima esperienza in Italia? qua mi sto trovando benissimo, in realtà non è la prima esperienza in Italia perché quando ho iniziato a giocare a pallavolo ho fatto la Serie C vicino a Trieste però sì, diciamo che è la prima esperienza in una Lega più forte, più come la Super Lega devo dire che mi sto trovando benissimo anche con i compagni, con lo staff, con gli allenamenti devo dire che ho imparato davvero tantissimo da tutti quindi sei cresciuto tanto in questi mesi? secondo me sì, secondo me ho imparato tanto cioè se mi guardo un anno fa e vedo un video di oggi, vedo la differenza indubbiamente insomma abbiamo visto che poi il tuo contributo quando chiamati in caso l'hai sempre dato, insomma lavori bene con i tuoi compagni e che è un po' la problematica di questa stagione per la cucina Elube Civitanova diciamo perché per le assenze pesano naturalmente quando si scende in campo in gara ufficiale ma poi pesano soprattutto durante la settimana perché non ci si riesce ad allenare come uno vorrebbe sì sì, quest'anno diciamo che è un anno pesante già dall'inizio c'erano i problemi anch'io all'inizio dell'anno sono stato fermo per un mese a causa del ginocchio se mi ricordo bene un mese, tre settimane poi gli altri infortuni sono arrivati praticamente uno dopo l'altro diciamo che quest'anno la squadra tutta insieme al completo non si è vista già da tanto tanto tempo spero che riusciamo a mettere la squadra tutta insieme anche quelli che sono ora infortunati che potranno giocare il primo possibile diciamo lo spero davvero sì effettivamente è vero perché Chico Blengini non ha mai potuto contare sul roster dei giocatori in maniera intera cioè su quella squadra costruita potenzialmente non sappiamo quale possa essere non ha mai utilizzato il sestetto cosiddetto ideale perché comunque è mancato prima Ivan Saitsev, è mancato poi Svani Guantorena sta rientrando ma ancora praticamente non è a completa disposizione sono mancati Giri Covara, infortuni un po' per tutti, Lucarelli per cui è veramente un momento, un periodo così tanto lungo ma veramente molto difficile poi per la formazione di Chico Blengini sicuramente, sicuramente si vede anche negli allenamenti è, gli allenamenti poi perché la famosa partita 6 contro 6 di qualità perché la Lugo la potrebbe fare se ti mancano 2-3 elementi non riesci a farla e quando questo perdura crea delle difficoltà nella preparazione della gara successiva Senti Roc, ma in queste ultime due gare 3-0 a Modena, 3-0 in casa qua contro la formazione del Wigel e a Strebelski cos'è successo, cos'è che non è andato in queste due gare o comunque cosa non è andato contro Modena e cosa non è andato nell'ultima gara di Champions? Ma quello che ho notato io è che contro Modena ma anche contro i Polacchi sicuramente la cosa che abbiamo faticato di più era l'attacco perché a Modena sia che qua due giorni fa difendevano tanto poi ovviamente per me la maggior ragione perché sono andato così non è un alibi, non dico questo però è anche la stanchezza sicuramente perché non abbiamo tutti i giocatori dopo così tanti allenamenti che è quasi praticamente fine anno la stanchezza si nota però anche se c'è la stanchezza secondo me dobbiamo fare una cosa in più come ha detto sempre il nostro coach però lo so che è difficile io non posso dire tanto perché non faccio l'esperienza come quelli che giocano tu non sei stanco insomma no io non sono stanco però ci credo che è difficile sì certo c'è una stanchezza fisica ma anche mentale perché il sacrificio continuo ti porta poi a mollare prima magari con la testa che con le gambe e speriamo sia naturalmente un periodo, una parentesi che questa Lube possa riprendere a correre del resto prima di Modena 28 partite in Superlega in maniera consecutiva quindi è comunque una squadra che al di là delle difficoltà attualmente è seconda in classifica quindi bisogna analizzare il momento delicato bisogna capire che effettivamente anche in Champions dobbiamo fare quasi un miracolo comunque fare una grande partita per avere la qualificazione in semifinale e poi ci sarà il playoff di Superlega però è anche vero che questa Lube ad oggi non ha vinto nulla e non è abituata insomma né a perdere due partite consecutive né a vincere nulla già al mese di marzo di solito qualcosa in bacchica va già messo almeno negli ultimi 10-15 anni però quest'anno è un anno difficile non è un alibi però quest'anno diciamo che almeno come la conosco io quando l'ho guardata durante l'anno scorso due anni fa quando ho iniziato a guardare la palla a volo io l'ho vista sempre al completo sempre e quest'anno invece è molto diverso almeno come la vedo io poi non dico nel senso non dico troppo è un dato di fatto gli infortuni sono costanti continui si notano quindi poi a lungo andare soprattutto pesano rientriamo ancora in questa gara di Champions League questa sconfitta per 3-0 contro lo Jastrebeski-Wiegel ascoltando le interviste del dopogara raccolte dall'ufficio Stampe quindi da Michele Campagnoli ascolteremo in sequenza il coace Chico Blengini e Riccardo Lucarelli Chico Blengini ci ripeti spesso quanto conta l'approccio in partite del genere purtroppo oggi è stato sbagliato ma io non credo che sia un problema di approccio credo che siamo oggettivamente in difficoltà e io mi assumo le mie responsabilità è in questa difficoltà non è che siamo oggettivamente in difficoltà abbiamo provato a con tranquillità cercare di identificare quali erano le cose che dovevamo sistemare prima ed è evidente che noi abbiamo un problema di regolarità sul cambio palla perché anche nel primo come nel secondo quando pur partendo sotto siamo arrivati a prenderli poi lì non riusciamo a tenere il punto a punto con regolarità anche di fronte secondo me a delle battute comunque non irresistibili buone battute perché è una squadra che ha come avevo detto nella premessa la partita nella regolarità nei pochi errori in un palleggiatore che il loro cambio palla con buona ricezione lo fa girare molto bene loro sono riusciti a ricevere bene anche battute molto buone da parte nostra e noi invece abbiamo zoppicato troppo e quello chiaramente poi complica la vita in attacco perché quando abbiamo ricevuto bene ovviamente però è stato troppo e poche volte di fronte anche a battute che secondo me potevano alcune essere gestite un po' meglio dopodiché al di là di questo problema qua c'è il discorso che comunque se tu ricevi male devi riuscire a essere più efficienti in attacco invece non riusciamo con le palle staccate che sia un problema di ricezione che sia un problema di qualità della battuta avversaria comunque quando giochiamo con palle staccate facciamo troppa fatica a chiudere i punti e soprattutto a a a evitare i punti diretti nel senso che abbiamo troppo spesso alternato murate a a errori e e questo chiaramente contro un avversario così non te lo puoi permettere senza cercare alibi qualche bianco rosso non era al meglio ha inciso sulla prestazione della incide tutto ma io credo che pur in queste condizioni noi siamo in grado di di giocare meglio l'abbiamo fatto e e quindi chiaramente è chiaro che quella è una condizione che che conosciamo e anche gli ultimi accadimenti li conosciamo però questa sera non c'è da parlare di quello questa sera c'è da parlare del fatto che chiaramente siamo siamo in siamo in difficoltà siamo in difficoltà facciamo fatica a giocare con continuità e quando cerchiamo di di recuperare magari aggiungiamo troppi errori diretti e questo chiaramente ribadisco ci penalizza soprattutto quando l'avversario è un avversario di qualità che di errori ne fa pochi che sta tanto in campo che difende e che anche quando batti in maniera importante riceve bene il 16 scenderemo in campo in Polonia in una settimana si può ritrovare la serenità un equilibrio? ma intanto dobbiamo ritrovarlo perché sabato abbiamo una partita di campionato e quindi prima di tutto dobbiamo pensare a quello è chiaro che è una sconfitta dolorosa è una sconfitta netta però dobbiamo assolutamente reagire ripartire rimanere attaccati alle nostre cose cercare piano piano di aggiungere cose progressivamente che funzionano meglio perché è oggettiva la difficoltà di gioco Riccardo Lucarelli non era questo il finale che ci aspettavamo abbiamo trovato una squadra molto forte ma questo già si sapeva sono stati bravissimi nel muro difesa e abbiamo trovato un po' di difficoltà in attacco con molti errori sì è peggio della sconfitta è come abbiamo fatto per noi anche non è buono che si perdi in una maniera così sappiamo che dobbiamo migliorare tante tante cose perché anche se si può perdere questa è della partita ma come si perde è diverso magari lottando un po' di più sbagliando un monto di meno queste sono cose che le ultime le ultime partite abbiamo fatto troppo è costato qualche sette di sconfitta anche partita quindi questo dobbiamo cambiare subito ovviamente siamo arrivati in un momento che la squadra ha il livello di stanchezza già alto ma questo non può essere una scusa perché fino adesso abbiamo fatto così abbiamo fatto bene quindi non possiamo molare in questo momento adesso è riposare e mettere la testa già veloce a sabato che c'è una partita dei campionati poi contro di loro ancora lì in Polone che sarà molto difficile nel secondo set sembravate aver trovato la chiave di volta avevate reagito sì sì lì a certo punto anche se in certe rotazioni abbiamo sofferto 3-4 punti e alla fine abbiamo trovato abbiamo contrattato anche per pareggiare ma poi 3-7 un'altra volta è una stessa rotazione si prende tanti punti e questo anche la morale della squadra va giù e questo non può succedere ci sono cose più semplici che possiamo fare meglio le robe difficili ovviamente proviamo sempre di fare ma le facili dobbiamo fare meglio sicuramente in Polonia sarà dura ma la Cucine Lube ci ha abituato a grandi imprese questo per fortuna abbiamo giocatori esperienti che hanno già giocato in tanti momenti difficili e sono riusciti a girare la pagina e questo è il momento per fare così sappiamo che sarà molto duro lì a casa loro ma sappiamo che possiamo anche fare abbiamo visto che con poco meno di sbagli giocando un po' più con la testa possiamo giocare di stesso livello sicuramente Rocca allora prima della gara di ritorno dei quarti finali di Champions League contro la formazione di Vastrabeschi ci sarà la gara di Veruna poi ne parleremo però visto che siamo sul tema Champions League quanto ci credete nel passaggio alla semifinale di Champions dopo questo 3-0 io ci credo al 100% se ce la mettiamo tutta se giochiamo come sappiamo giocare io so che possiamo arrivare alla semifinale anche nella finale anche vincere se giochiamo se giochiamo come sappiamo giocare ovviamente sarà più difficile il sestetto non è ideale però mi sto allenando con questi questi compagni questi ragazzi già già mezz'anno quasi mi sa no più di mezz'anno sì quindi un tre quarti di stagione sì 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 quindi so di cosa siamo capaci quindi se giochiamo come sappiamo giocare sono sicuro che passiamo alla semifinale ricordo si giocherà alle 20.30 di mercoledì prossimo una gara di ritorno in Polonia avendo perso 3-0 la Cucine Lube Civitanova basterà tra virgolette vincere 3-0 e 3-1 e poi aggiudicarsi il Golden 7 vincere 3-2 non basterebbe perché serve una vittoria a due punti e quindi passerebbe la formazione polacca in presa tu non c'eri chi ha sfiorato la Cucine Lube in questo campo contro lo Zaxa lo scorso anno in una gara molto simile si che poi l'ha perso il Golden 7 poi Zaxa che ha vinto altra squadra polacca che ha vinto poi la Champions League quindi si può fare ecco questo si si ovviamente che si può fare assolutamente ha le carte in regola la Cucine Lube Civitanova naturalmente per centrare questo obiettivo quale dovrà essere l'arma maggiore o comunque l'errore che non dovrà commettere alla luce della gara d'andata in questa partita di ritorno ma la cosa più importante che assolutamente non dobbiamo fare nella partita settimana prossima è che dobbiamo diciamo che dobbiamo avere un carattere maggiore dobbiamo entrare in campo in un modo diverso perché come l'ho visto io io quando siamo entrati in campo qua due giorni fa eravamo un po' un po' spenti un po' stanchi ovviamente però secondo me la cosa più importante di fare è entrare nel campo al 100% con una grinta maggiore con la voglia di vincere tu dici la mentalità da vincente che la Lube ha sempre avuto e a volte per stanchezza non riesce a mettere le mostre e quella dovrà essere l'arma in più in questa gara di ritorno perché poi la parte tecnica la qualità individuale di squadra è appurata per cui non ci saranno problemi in momento in cui l'approccio sarà giusto meglio sarà una partita che la Lube giocherà a testa altissima del resto comunque la formazione polacca ha dimostrato di essere un'ottima squadra non per niente al comando della classifica del campionato polacco insomma e sappiamo tutti dicono il campionato italiano è il più forte al mondo ma anche quello polacco insomma di recente non sta scherzando non sta scherzando per niente quindi insomma indubbiamente sarà una gara da seguire e naturalmente lo farete lo faremo anche attraverso Radio Arancia che seguirà in esclusiva questa partita in Radio Cronaca diretta sentirò che prima ancora però la gara di sabato perché appunto giocando mercoledì e partenza per la Polonia anticiperete a sabato la quarta di ritorno recupero di Super Lega a Verona altro ostacolo non certo semplice altra partita da vincere per garantirsi e mantenere questo secondo posto ci saranno poi altre due gare bisogna capire anche quello che farà Trento però indubbiamente insomma è un'altra partita dove serve da subito trovare il risultato pieno sì sì anche ogni partita si deve vincere nel senso si deve entrare in campo per vincere poi ovviamente qualche partita non ci riusciamo però si deve entrare in campo sempre per vincere perché la classifica comunque è una cosa importante ogni partita che vinciamo diciamo che ha effetto sulla classifica quindi la partita di sabato contro Verona sicuramente non sarà facile perché hanno dimostrato che sanno giocare bene a pallavolo quindi si saltano poi con le grandi insomma fanno bene contro le formazioni giocano davvero bene quindi sicuramente dobbiamo entrare dobbiamo giocare diciamo ogni partita come al 100% non dobbiamo pensare che sono più giù nella classifica perché ogni squadra in questo campionato ha dimostrato che sa giocare a pallavolo al netto di tutto quello che abbiamo detto delle difficoltà che sta attraversando in queste ultime gare di tutto questo periodo è estremamente negativo per l'indisponibilità però se la Lube dovesse centrare il secondo posto nei playoff e superare il turno di Champions League comunque possiamo parlare di una Lube che sta facendo qualcosa non dico di miracoloso ma sicuramente di molto importante sì di sicuro se passiamo questo turno che andiamo in semifinale siamo su una strada buona perché già vincere dopo diciamo se passiamo in semifinale dimostriamo che abbiamo carattere che abbiamo voglia di vincere anche pur aver perso qua 3-0 due giorni fa poi se 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 finiamo secondi in classifica è sicuramente una cosa molto molto buona perché ovviamente dobbiamo stare tra le prime squadre intanto per la qualificazione in Champions per il prossimo anno per la Champions poi comunque giocare la gara eventualmente decisiva fino alla semifinale in casa il secondo posto dà dei buoni margini insomma di importanza a raggiungerlo conquistarlo senti Roc di quale squadra facevi il tifo quando eri in Slovenia nel guardare la pallavolo italiana ma io cioè proprio il tifo il tifo la squadra del cuore la squadra che ti piaceva di più la squadra che ti appassionava di più non ce n'era da piccolo non da piccolo Trento perché là giocava mio papà ah beh certo c'è Trento Montechiari prima però Trento era la squadra che mi piaceva di più quando ero più piccolo però poi negli ultimi anni c'era già Beppe Cormio sì quindi vedi che ci sono i richiami perché però poi negli ultimi anni quando ho iniziato a seguire la palla a volo anche giocarla erano sempre la Lube Modena Perugia tutte queste squadre le tre o quattro squadre più di blasone chi stava emergendo chi stava vincendo però ho sempre sperato un po' di più che vincesse la Lube sempre e allora vedi la destinazione è quella giusta non è sbagliato strada assolutamente senti entriamo un po' più nel personaggio perché tu giochi a pallavolo sei giovanissimo avrai una carriera te lo auguriamo veramente importante però sei arrivato alla pallavolo attraverso un percorso un po' atipico perché la tua passione non era sì lo sport ti piaceva facevi tante attività però la tua passione era un'altra la musica sì sì la musica quando ero più piccolo cioè anche tre o quattro anni fa suonavo tanto strumento basso basso sì però quando ero piccolo sono andato anche in scuola a scuola di musica suonato anche la pianoforte però poi dopo ho iniziato a suonare il basso poi abbiamo fatto una specie di band tipo con degli amici stretti quindi sì una rock band comunque sì 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 quindi prima della pallavolo c'era questo fino a quattro anni fa diciamo che nel mio tempo libero facevo più o meno solo questo ma volevi fare il cantante da grande volevi essere leader di un gruppo rock o fare naturalmente il giocatore del pallavolo ma fino a fino a quattro anni fa pensavi a quello sì pensavo a quello poi la pallavolo in realtà prima di due anni fa non ci ho mai pensato in questo modo perché io ho iniziato a giocare a pallavolo perché dovevo farlo per la schiena mi ha detto il dottore che devo iniziare a fare attività pallavolo per cioè non pallavolo sport e poi sono andato a fare la pallavolo perché mio papà ovviamente ha giocato quindi però poi no due anni fa quando ho iniziato più seriamente ci ho pensato in questo modo e alla fine ho deciso che è meglio meglio scegliere la pallavolo perché comunque mi sono appassionato davvero tanto a questo sport negli ultimi due anni quindi ho deciso di fare questo e comunque la musica non la metterai mai da parte perché in ogni momento puoi riprendere il tuo basso e divertirti era un gruppo che stava avendo successo da quello che mi dicono i sloveni piano piano state crescendo anche lì sì piano piano diciamo che non era male avevamo fatto due dischi quando c'era ancora io ora non lo so se ne ha fatto altri però quando c'ero io ne abbiamo fatti due abbiamo avuto tanti concerti quindi andava bene andava bene quindi facevate concerti c'erano gente che pagava un biglietto per seguirvi quindi insomma era una band già acclamata voluta non eravate alle prime armi insomma il percorso era già ben avviato sì sì non era male cioè era un'esperienza bellissima in realtà quindi fra una ventina d'anni potresti riprendere il basso e ritornare in questo gruppo questo secondo me è un po' difficile però non si sa mai la musica una volta imparata non si dimentica più non si dimentica mai si può suonare veramente fino a 150 anni Rock grazie per essere stato con noi sei sorridente questo già ci riempie di gioia in un momento molto particolare senza entrare troppo nei meriti ma speriamo che possa essere superato quanto prima e naturalmente al piacere di riaverti di nuovo nostro ospite e buona pallavolo con la cucina Lube Civitanova grazie a te grazie a te grazie ancora Rock Ieroncic centrale della cucina Lube Civitanova chiudiamo qua la puntata di oggi ci ritrovremo la prossima settimana grazie a te grazie a te